Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e questo è il primo video on demand perché avete risposto in modo positivo e siete stati tantissimi a lasciarmi dei commenti sul video in cui vi chiedevo toglietemi una curiosità e quindi questo mi ha fatto molto piacere, quindi iniziamo con questo video il più semplice a dire il vero perché ci sono tantissime richieste che cercherò di soddisfare però iniziamo molto semplice con delle notizie perché ho capito che siete amanti delle notizie del mondo della simulazione questo mondo che ci appassiona e che ci accomuna iniziamo subito con questa mega notizia, sono aperti due campionati ufficiali su SimDrivers io voglio ringraziare tutti quelli che hanno già colto l'occasione di raggiungerci su Discord e siete stati numerosissimi ragazzi, non ci aspettavamo un'adesione così grande, siamo veramente felicissimi perché sembra che le nostre idee vi piacciono, quindi ci sono due campionati uno su Assetto Colson Petizione in cui le iscrizioni sono ancora aperte e inizia l'8 settembre e un altro che è su R-Factor 2, attesissimo R-Factor 2 con questa combo BTCC Mission Impossible ragazzi che è già i primi iscritti, si sono lanciati a testa in giù per potersi iscrivere e approfittare di questo bellissimo campionato basta fare uno scan del QR code per poter accedere direttamente al canale dedicato su Discord ragazzi così vi potete iscrivere, potete leggere il regolamento, come funziona eccetera e soprattutto potete raggiungerci su Discord e condividere questo fantastico mondo della simulazione di guida allora arriviamo però adesso alla prima news che mi sembra davvero molto interessante quella di iRacing, questo amato, odiato simulatore che per festeggiare il quindicesimo anno di vita quindi il loro compleanno, quindicesimo compleanno hanno lanciato questa iniziativa di regalare a tutti gli account attivi quindi un dollaro di credito sul proprio account in base alle anzianità cioè per ogni anno di anzianità avrete un dollaro dieci anni di anzianità, dieci dollari io apprezzo tanto perché secondo me è un bel gesto nei confronti dei propri clienti ovviamente uno potrebbe dire ma un dollaro cos'è vabbè un dollaro ragazzi 250.000, 200.000 account attivi ragazzi è un bel investimento ed inoltre creeranno nella settimana del 26 agosto una serie di eventi proprio per festeggiare questo compleanno e per 15 fortunati che parteciperanno a tutti questi eventi in questo 26 agosto, in questa settimana del 26 agosto saranno selezionati 15 quindi la rappresentanza che rappresenta appunto i 15 anni di vita di iRacing 15 persone che avranno ognuno di loro 1000 dollari di credito che non è poco ragazzi quindi se volete partecipare a questa iniziativa, a questo concorso basta in quella settimana partecipare a tutti gli eventi e poi aspettare di avere forse la fortuna di essere selezionati bene ragazzi, non prendete impegni per quella settimana se volete vincere 1000 dollari parliamo di GTR Revival ragazzi allora prima di parlare di GTR Revival dobbiamo parlare delle dichiarazioni di Ian Bell ma chi è Ian Bell? Ian Bell è uno sviluppatore che ha avuto un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell'engine di Easy l'engine di Easy ragazzi negli anni 2000 per farvi capire è quello che ha portato alla gloria di Simbin e la sua serie GTR quindi Ian Bell è veramente uno che capisce di simulazione dopodiché si è staccato per creare la slide di Paddy Studio parliamo della serie Need for Speed e poi si è staccato di nuovo per sviluppare la serie Project Cars che soprattutto il 2 ha fatto discutere tantissimo perché era nel limbo tra sono un simulatore o non sono un simulatore Simcade, dov'è il limite? perché non riescono a proporre qualcosa di più simulativo? perché non riescono a fare concorrenza? e sì perché noi avevamo tutti l'acquolina in bocca con quella grafica lì che dal 2017 a oggi, che è quella di Automobilista 2 ancora ci fa brillare gli occhi ma non sono mai riusciti a passare quel limite per far diventare il titolo degno del nome di simulatore inoltre hanno avuto un modo molto ingegnoso e soprattutto avanguardista di farsi finanziare il progetto infatti ogni utente poteva partecipare con una donazione con delle quote prestabilite ed ogni quota dava un vantaggio ad esempio se uno entrava con 50 euro in ritorno aveva, che ne so, il gioco ovviamente pagato più un bonus 100 euro avevi il gioco più il bonus e magari c'avevi anche una percentuale su eventuali guadagni della vendita del titolo e via dicendo fino ad arrivare addirittura a 1000 euro e passa io ho partecipato avevo partecipato con 100 euro e sono stati fedeli alla loro parola non solo ho avuto il gioco più dei bonus eccetera ma ho avuto anche il guadagno per due anni di seguito come scritto da contratto sui ricavi di Project Arzue non pensate che ho avuto chissà che ho avuto il rimborso del titolo e forse una ventina di euro non è che siamo chi invece ha investito un po' di più ovviamente ha avuto un ritorno proporzionato a quello che è stato l'investimento però trovo che questo modo di farsi finanziare non solo faceva partecipare la comunità perché non solo c'era un ritorno economico eventualmente ma in più si poteva provare le bete in modo prioritario e si poteva intervenire sui forum per dare delle indicazioni proprio agli sviluppatori migliorate questo questo non va bene quello non va bene insomma in un modo molto bello interattivo appunto Slidima di Studio aveva messo in campo quindi una cosa veramente fichissima dopodiché Slidima di Studio purtroppo è andato a scemare quella che era l'idea di Project Arzue di creare il simulatore definitivo anche le dichiarazioni su Project Arzue che è completamente anonimo cioè non ne parla nessuno non so manco se ci gioca ancora qualcuno che ha praticamente ha deviato l'intento di fare il simulatore definitivo che è diventato un nulla parliamoci chiaro ragazzi di conseguenza Jan Bell perde un attimino la fiducia della comunità e passano degli anni e finalmente decide di riprendere in mano questo famoso progetto di GTR 3 ragazzi che tutti lo aspettiamo da 20 anni lo aspettiamo questo simulatore proprio perché quel simulatore dava quell'emozione cioè ragazzi parliamoci chiaro chi viene da console e prende in mano GTR 2 mettetevi un attimo nei panni di chi è negli anni 2000 e sente solo il sound della prima GTR impazzisce impazzisce avevano fatto un qualcosa di veramente stratosferico quindi Jan Bell torna sul mercato e crea Stray for Studios per riprendere dopo la delusione di Project CarStray in mano appunto un progetto che speriamo possa rianimare quello che era l'entusiasmo iniziale degli anni 2000 della comunità che seguiva Simbin e quindi Jan Bell ora Jan Bell sa benissimo che è la sua ultima cartuccia cioè che non può più sbagliare perché sennò poi la gente dice vabbè Jan Bell la baffa ok quindi qual è l'obiettivo? l'obiettivo principale dice Jan Bell è di ricostruire la fiducia con la nostra comunità sono le parole sue il gioco è e deve essere un progetto passionale del team quindi le basi ovviamente lui è un filosofo ragazzi un poeta che sta lì io voglio che ci sia la passione vabbè Jan Bell Jan Mayfattic però quindi lui dice così lo speriamo tutti però deve stringere e speriamo che veramente arrivi a creare quel progetto che ormai sono 20 anni che cerca di arrivare cioè avere quasi il simulatore perfetto che non esiste però un qualcosa che ha passioni che faccia dimenticare magari quei bug o quelle cosettine che non funzionano allora da quanto dice il GTR Revival includerà un'ampia varietà di modalità di gioco e in più vuole proporre una carriera che sarà diversa da quella di Project Cars che poi quella di Project Cars ragazzi lasciava il tempo che trovava comunque ma questa volta vuole farlo con un approccio nostalgico non definisce bene che cosa vuol dire quel nostalgico non credo che sia un discorso di che ne so Grand Prix Legend o queste robe qua o per forza macchine di depo proprio il modo in cui si svilupperà la carriera oltre a questo parla di una IA innovativa ed in più introdurranno commentatori a voce sintetizzata quindi mi pare una features interessante anche se non lo so forse per quanto riguarda il commento delegale dell'esterno potrebbe essere interessante non lo so e in più l'ingegnere delle piste è tutto quello che è il team che sta intorno ai box però anche qui non è specifico quindi non si riesce a capire bene qual è questa features ma una cosa che ed è per questo che ve ne parlo che è molto interessante è che GT Revival supporta io lo chiamo GT Revival invece è GT Revival ragazzi GT Revival supporterà il modding e quello che è interessante è che Jan Bell dichiara che darà supporto e strumenti necessari per il modding alla comunità ragazzi se è fedele alla sua parola qua è una figata pazzesca cioè questo è un gioco che diventa come assetto corsa che non finirà mai per quanto riguarda le date di uscita è stato molto chiaro uscirà in early access quindi ad access anticipato entro fine anno 2023 per avere un'uscita definitiva per la fine del 2024 quindi verrà rilasciato in early access con delle patch di aggiornamento fino all'uscita definitiva nel 2024 come era successo per Project Cars 2 quindi secondo me saranno molto all'ascolto di quello che è della comunità non so se faranno come Project Cars 2 con il World Mass Development non lo so non l'ha dichiarato però credo che i presupposti e le basi siano corrette soprattutto perché come dicevo è l'ultima sua carta per fare per giocare con GTR e le macchinine cavolo in sintesi ragazzi questo GT Revival promette di essere un titolo di simulazione di corse rivoluzionario a detta di Jan Ben staremo a vedere la fine dell'anno sono un paio di mesi e vediamo che cosa succede tanto noi saremo qua sempre in ascolto per parlare delle novità sul mondo di GT Revival e per concludere questo video ragazzi voglio segnalarvi un video del nostro amico Alessandro K di malati di simulazione malati di sim racing stavo solo controllando se eravate attenti ieri ha pubblicato un video molto interessante in cui parla di una mega offerta a 11,68€ per 7 titoli di simulazione e sono andato a guardare ragazzi stiamo parlando di assetto corsa completo assetto corsa competizione completo il bundle completo eccetera e in più mi ha dato l'occasione che ce l'avevo praticamente tutti di provare Nascar Hit 5 ragazzi mi sono fatto due giri ieri pomeriggio mi sono spaccato dalle risate è un giochino per giocare è un giochino per fare delle serate cazzeggio fantastiche ragazzi quindi io vi lascio il link al video di Alessandro che saluto così andate a vedere bella tutta l'offerta caruccia che c'è nella speranza che questo video che questo primo video con queste notizie succulenti nel mondo della simulazione di guida vi sia piaciuto io vi invito a lasciare un pollice in su a commentare ma soprattutto ad iscrivervi ragazzi e facciamo crescere questa comunità e veniteci a raggiungere sul nostro canale discord e ricordate iscrivetevi al canale e anche ai campionati e noi ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto un abbraccio ciao ciao